Amici del Parlamento Europeo, quei cittadini che sono scesi in piazza a Parigi Lo sanno bene perché alcuni commentatori hanno detto La foto storica è la foto dei leader No, non è la foto dei leader che camminano insieme La foto storica è la foto di un popolo, innanzitutto il popolo francese Alla cui storia di lumi e cattedrali Di ragione e di bellezza Io impongo un entrando Strasburgo in una sede europea ma anche in una città francese Un omaggio di tutti gli italiani e di tutti gli italiani dopo quello che è accaduto Ma è anche me lo lascio dire, signor Presidente Quella idea profonda, quella straordinaria idea La esperienza che abbiamo fatto, sentendo i casi della Marseillese del Trento mentre camminavamo Vedendo le immagini di donne e uomini che non si rassegnavano all'idea del terrore e della paura E che dicevano con la loro presenza in quelle piacce Certo che c'è niente Ma quelli che dicono che il nemico è la religione Invito ad andare a rileggere un grandissimo discorso Read, please, a speech A wonderful speech made in Egypt I did a lot of things this six months and I met Egyptian representatives in Cairo and also in Rome Ma quel discorso che Al-Sisi ha tenuto il primo giorno dell'anno In una università al Cairo In una università dove ha spiegato Che il nemico non è la religione Ma è l'ideologia Che punta ad uccidere anche l'idea stessa di religione Ma è il rischio grande che noi abbiamo Non è quello di non vedere il nemico È quello di pensare che la paura ci possa fermare, ci possa immobilizzare, ci possa bloccare Quindi il nemico in our tracks can prevent us from moving forward And I think that locking ourselves in, closing ourselves off, building up walls, building up borders Isn't European It means not being European We've got a political debate and a cultural debate And some people are actually saying, Mr President, that on behalf of our security We should live in fear Identity, people are saying, doesn't square with integration Lasciatelo me lo dire Da uomo di sinistra Io voglio dire con forza che non lasceremo mai La parola identità a chi chiuda più forte Perché la parola identità è una parola bella Che ci appartiene, che ci riguarda La parola identità è una parola che spime il senso profondo dell'essere europei Io sono fiero delle strade in cui ho giocato a calcio Io sono fiero delle scuole dove sono vissuto Io appartengo alla mia terra Sono orgoglioso di essere europeo, italiano, fiorentino Sono orgoglioso di ciò che la presenta la mia piccola storia personale Perché la mia identità è un tratto fondamentale Non è integrazione Il contrario di identità è anonimato Il contrario di identità è anonimato Il contrario di integrazione è disintegrazione È ruptura e distruzione E allora noi oggi dobbiamo avere la forza di dire con grande chiarezza E che in questo mondo I nostri nemici I non potendo ucciderci Since they can't kill us Are trying to change the way that we live And we shouldn't allow anyone to change the way that we live Chiamatela con le parole che ritenete più opportuno Volete chiamarla guerra? Volete chiamarla conflitto? Volete chiamarla come vi fare? C'è una realtà vera Lo spauracchio della demagogia può portare un decimale di voto in più Ma se qui noi saremo classi dirigenti Se noi qui saremo leader e uomini capace di guidare le istituzioni La sfida di oggi è far tornare l'Europa a fare il proprio mestiere E questo passaggio mi porta a dire Mi porta a dire una cosa molto semplice per chiudere Per chiudere Se stiamo vedendo tornare la politica oggi in Europa È perché in questi mesi e in questi anni Noi abbiamo visto che il mondo reclama più Europa Non è Però dobbiamo dire la verità Dobbiamo dire la verità Questo tipo di Europa che abbiamo costruito in questi anni Ha dato l'impressione di essere troppo spesso Un modello basato soltanto sull'economia Sui vincoli Sui vincoli Sui vincoli Sui vincoli Sui vincoli Sui vincoli È un cambiamento che probabilmente andava immaginato negli ultimi sei anni Non negli ultimi sei mesi Oggi il mondo cambia Il mondo sta cercando di investire sul futuro L'Europa non Ma siamo stati a Brisbane E la demagogia vorrebbe cancellare Nel lasciare il testimone Alla presidenza della Letonia Ricordo a me stesso E quando questo Parlamento fu Chiamato all'elezione diretta fu sotto la presidenza italiana Era il 1975 La presidenza italiana Si face l'accordo perché Si passasse l'accordo perché Si passasse al voto diretto E a elezione diretta di Parlamento dell'Europa Fu un momento molto importante 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 Il mondo deve innanzitutto farci guardare Da un lato Alla politica di vicinato In modo diverso E questo è il lascito Che noi diamo Innanzitutto alla nuova presidenza Politica di vicinato Significa attenzione diversa al Mediterraneo Significa attenzione diversa all'allargamento dell'Unione Europea Perché noi non possiamo fare a meno Albania, Serbia, Montenegro E non possiamo permettere Che questa discussione sull'allargamento E questo sia dettata e iniziata dalla paura E certo Riguarda anche il rapporto tra Ucraina e Russia E' stato un tema tra i più delicati di questo senso E che io stiamo continuerà ad attraversare la stagione che stiamo vivendo Allora, nel darvi appuntamento Al prossimi appuntamenti internazionali dell'Italia Partire dall'Expo Nel primo maggio affronterà un grande tema E infede nella politica Perere di nutrire il pianeta Per cambiare la vita degli uomini Questo significa Fare una grande investimento E questo significa Investire la storia di vita certo Ma anche di lotta alla fame The battle against hunger Tho can't be forgotten about But I don't want to leave with words about telemachus Perché è difficile leggere più di due libri, è difficile per alcuni di voi, lo capisco, però ho imparato cosa fosse l'Europa non nei corridoi delle istituzioni, ho imparato cosa fosse l'Europa, signor Presidente, nello studiare la storia della mia città, e nella mia città c'è un grande personaggio, che è Dante Alighieri, che quando mette in bocca una piccola orazione, a Ulisse, fa un refermento che trovo straordinariamente efficace, oltre, nel momento in cui dovrebbero rintanarci in casa, impauriti e sconvogli, dice Dante facendo parlare a Ulisse, fate noi posto per vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza, non credo che sia un grande messaggio per ciascuno di noi oggi, il Parlamento europeo è un bifio scelga se immaginare di vivere come dei bruti inseguendo un messaggio demagogico che forse potrà portare qualche mezzo punto in più ma che non consentirà di governare l'Europa e dall'altro c'è la possibilità di seguire virtù a conoscenza cioè di essere europei e noi, emozionati e responsabili crediamo che oggi l'Europa sia il vero luogo della sfida di domani con questo spirito ringrazio le istitizioni per la cooperazione e dico al Presidente del Parlamento europeo che sempre l'Italia, fedele al suo messaggio di civiltà di valori e di ideali continuerà a lavorare per un'Europa che sia sempre più dei popoli è sempre meno della burocrazia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti